Veneto Banca azioni crollate da 30 euro a 10 centesimi, oltre il 99% del capitale è andato bruciato dopo che il CDA ha fissato la forchetta di prezzo da 10 a 50 centesimi per l'aumento di capitale da un miliardo di euro. Doccia gelata per i quasi 88 mila soci di Veneto Banca che stanno subendo perdite da capogiro. Si conferma che la perdita di queste due banche, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, rispetto alle quotazioni delle azioni che sono crollate, al loro valore e non alla quotazione, vuol dire una perdita di circa 10 miliardi di euro. Per dare una dimensione la prima guerra mondiale in Veneto e Friuli Venezia Giulia ha fatto danni di guerra per circa 11 miliardi di euro. Quindi la devastazione di una guerra. Sono 205 mila famiglie coinvolte nelle due banche e è una grande preoccupazione. Noi come regione ci siamo mossi con la commissione di inchiesta e con un fondo speciale che io ho voluto, con una legge per l'assistenza legale dei piccoli risparmiatori, dico che se c'è qualcuno che ha sbagliato è giusto che si facciano le giuste procedure e le azioni di responsabilità, dall'altro fiducia nelle procure. È fondamentale però che a livello nazionale si intervenga con un provvedimento a salvataggio quantomeno dei piccoli risparmiatori. Non è possibile che quando una banca va in difficoltà, come è accaduto con queste due banche, a pagare siano i piccoli risparmiatori. Il CDA di Veneto Banca parla di decisione sofferta che da una parte di fatto ha zero i capitali investiti e dall'altra apre le porte al Fondo Atlante che è pronto ad acquisire al prezzo minimo la parte non sottoscritta dell'aumento di capitale, ma ad una condizione, quella di raggiungere almeno il 50,1%, ovvero la maggioranza assoluta. Per Montebelluna l'operazione, che decollerà con l'offerta l'8 giugno, risponde al fine di evitare un possibile rischio sistemico e di limitare al massimo l'impatto per le economie dei territori nei quali opera l'Istituto.